il mio avversario mi ha incontrizzato in monta intanto facciamo riportare allora siamo in monta lui mi ha aggreggiato le gambe e mi sa quanto è la patata questo è il metodo migliore riguardatevi una cosa quando loro fanno questo che stendono le gambe e iniziate voi a sentire male basta che poggiate bene i piedi con la gamba a niente c'è la gamba perché non importa se per gli altri mette il motore se proprio lui è forte riesce a stendere il meno uno la stendo lì la mando il piede in fuori la stendo la gamba e sono lì stendo e sono lì per lui può cercare di non la gaccia mentre cerca la gaccia io mi faccio riportare come ha detto riportare varie possibilità allora quindi le gambe sono spiegate libero libero e sono pronto a fare bene se io gli ho le mani interne io vado e scelgo un braccio o questo o questo un braccio dentro e uno fuori quando io blocco così lui non ha appoggi da questo lato per vitarmi il ribaltamento quindi se io riesco a prendere questo braccio vado in bocca vedete lui non può fare niente ma ne che è seguito e andando su e arrivo io solo se invece lui di tenare le braccia così lui le tiene completamente a terra schiacciate proprio così che tipo di lavoro lo faccio lo cerco di un attimo alzare o si distingere ma in verità mi serve solo per rimpirare un braccio e anche dalla spalla lo anche se apparesco con calibrato i bracci è sempre mio non glielo lascio più è mio non glielo spezzato non glielo lascio più niente ok quindi le mani lì cerco il braccio che è qua lo cerco qua che è chiuso che ho con pochi spazi in più la mano ponte a ponte a ponte giro vedete come il giro ponte e solo sopra ok intanto facciamo questo giusto rifaltamento dall'uomo via che è qua prima 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 Grazie.